Oggi si va di ammiraglia. Già, perché una volta andata in pensione la Fetton, qualcuno se la ricorda, la berlinona ipertecnologica di Volkswagen, la Tuareg è diventata il modello di punta del brand tedesco. Oggi sono sempre di più i clienti che preferiscono i grandi SUV alle classiche ammiraglie e allora con la generazione più recente è diventata più tecnologica e lussuosa facendo un deciso passo in avanti a livello di qualità, dotazioni e sicurezza. Il test è dedicato alla versione ibrida plug-in. Fin da quando è uscita il suo design divide, soprattutto per il massiccio frontale. Seguendo un po' il nuovo corso stilistico del marchio, è piuttosto aggressivo, ma di sicuro inconfondibile. È la Tuareg. Guardandola di lato, pur essendo più lunga della generazione precedente, di quasi 8 cm, si rivela ben proporzionata, con un design molto più filante e sono riusciti ad alleggerire la fiancata con la nervatura superiore. Inoltre, il lunotto piuttosto inclinato ne accresce lo slancio. Dietro hanno usato meno e mi sembra più riuscita ed equilibrata. A qualcuno potrebbe anche ricordare la cugina Audi. È proprio grande, più lunga, più larga di prima, insomma promette più spazio per i fortunati passeggeri e i loro bagagli rispetto alla generazione precedente, ma se fuori divide, dentro mette tutti d'accordo. O quasi. Difficile restare indifferenti al grande display curvo digitale ad alta risoluzione interamente rivestito in vetro, che fonde la strumentazione digitale da 12,3 pollici con lo schermo del sistema di navigazione da 15 pollici. Una superficie complessiva di 27 pollici, rivolta verso chi guida. Lo chiamano Innovation Cockpit. L'abitacolo ha un design con pochi fronzoli. Va detto che sedili e finiture in generale sono con lavorazioni e con assemblaggi molto precisi, accurati, ci sono materiali di pregio. Insomma è decisamente all'altezza delle aspettative, dato anche il target a cui si rivolge. La Touareg è spaziosa, confortevole e molto pratica. Cinque persone adulte, anche alte, ci stanno comode. Il terzo passeggero dovrà stare però con le gambe un po' allargate, a causa dell'ampio tunnel centrale. Nonostante sia più bassa di prima, c'è tanto spazio per testa e gambe. Hanno fatto questa scelta, rinunciando alla possibilità di offrire l'optional dei sette posti, che invece si trova su altre concorrenti. Però l'apertura delle portiere posteriori è ampia, così da rendere più semplice l'installazione dei sedili per i più piccoli. Si riduce un po' la capacità del bagagliaio. Nelle versioni normali va da 810 a 1800 litri. Nell'ibrida plug-in, fra batteria e cavi, si va da 6,65 a 1,655, sempre e comunque tanto. Se tra gli optional scegliete il pack che comprende le sospensioni pneumatiche, potete abbassare il piano di carico per rendere più facili le cose con oggetti pesanti o ingombranti. Come vi ho già detto, quella in prova è la Touareg E-Hybrid, l'ibrida plug-in. È dotata di un motore elettrico e un V6 3000 TSI a benzina con 340 CV, 250 KW, che condivide con la cugina Audi Q7. Quando la batteria agli ioni di litio è bella carica, può contare su una potenza complessiva del sistema di 280 KW, 381 CV, con una coppia fino a 600 N per metro. Volkswagen dichiara che la capacità della batteria è di 17,9 kWh e che consente un'autonomia e modalità elettrica fino a 47 km e allora è scattata subito la prova in città per verificare quanto promesso. Tempo di ricarica 2 ore e 44 minuti, ricaricati 14,73 kWh. Dice che dovrei poter percorrere 47 km in modalità elettrica. Con la tariffa a consumo il costo è dei 5,89 euro. Ah, la Touareg non consente di effettuare ricariche rapide in corrente continua. Scelta la modalità E-Mode e il profilo di guida Eco, quello orientato a ridurre i consumi, ho affrontato l'intero percorso cittadino utilizzando solo il motore elettrico alimentato a batteria. Cambio in D, clima automatico in sui 21 gradi, in città attorno alle ore 12, traffico normale di quell'ora, temperatura esterna tra i 28 e i 30 gradi. Il risultato? Ho percorso 39 km. Beh dai, molto meglio di tante altre che si firmano a metà della percorrenza dichiarata. I consumi? 0,5 litri di carburante per 100 km e 30,8 kWh per 100 km. Per essere precisi, il motore termico è intervenuto solo due volte quando ho accelerato con un po' troppa decisione. Ma in realtà, con un filo di gas, questo pesante SUV si muove comunque in maniera molto fluida e ovviamente nel più assoluto silenzio. Non dimenticate che l'autonomia reale varia in base a vari fattori come lo stile di guida personale, le condizioni stradali, la temperatura esterna, il riscaldamento, la climatizzazione e altro ancora. Poi, una volta ricaricata di nuovo, la prova è diventata più normale, scegliendo la modalità Hybrid in cui il sistema ottimizza l'uso del motore elettrico e di quello termico. La posizione di guida è ottima. Sedili ampi, regolabili elettricamente, riscaldabili se necessario e soprattutto un'ottima visibilità. La nuova Touareg è stata costruita sulla piattaforma MLB Evo, che condivide con alcuni modelli di Audi, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne e Lamborghini Urus, ma soprattutto rispetto alle ultime due, vi accorgerete che Volkswagen ha privilegiato il comfort rispetto al divertimento alla guida. È più grande di prima, ma è diventata più leggera. Con un ampio uso di alluminio, acciai high-tech e una completa riprogettazione, sono riusciti a ridurlo di un centinaio di chili, per essere precisi 106. Siamo comunque sempre a quota 2352 chili. Il comfort di marcia che sa offrire la Touareg è davvero notevole. Silenziosa, reattiva, con un cambio automatico a otto rapporti piuttosto fluido quando siete nel traffico cittadino. A basse velocità, cambia marcia senza intoppi. Quando invece scegliete la modalità sport e volete darci un po' dentro, se accelerate con decisione, in scalata il DSG non è così veloce come dovrebbe essere. A proposito di comfort, voto 10 al clima a quattro zone Aircare Climatronic con i comandi anche posteriori. È riuscito a farci viaggiare al fresco anche nei giorni più caldi di luglio. E non è così scontato, ci sono auto di un certo livello che non ci riescono nello stesso identico modo. La città non è il suo habitat ideale, vi mette comunque a vostro agio, offre una buona visibilità ovunque, ma è lunga e soprattutto molto larga. Nelle città dove in centro ci sono strade strette, molto strette, diventa un po' impegnativa. Nei parcheggi pubblici a pagamento bisogna prestare molta attenzione perché spesso si passa appena senza far danni. Per non parlare delle normali aree di parcheggio, spero che per quelli futuri si decideranno a fare spazi singoli più ampi, le auto sono cresciute, anche la più piccola Panda è molto più grande della sua mitica antenata e poi oggi SUV e crossover sono in percentuale sempre più alta. Sulle strade extraurbane si viaggia in grande relax, il 6 cilindri a V-turbo insieme all'unità elettrica offre sempre tanta coppia e riesce a dissimulare bene il peso che deve spostare, peso che si fa sentire un po' nelle curve più veloci, ma è normale. Sul nostro esemplare c'è il suspension spec che comprende l'ormai famoso ACC, la regolazione adattiva dell'assetto e le sospensioni pneumatiche con ammortizzatori a regolazione elettrica. Queste ultime aiutano il comportamento dinamico del SUV. Se schiacciate il tasto SYNC, l'assetto di guida si adatta al profilo di guida che avete scelto. Se siete in comfort o normal, la Touareg si abbassa automaticamente quando superate i 140 all'ora. Si risolleva, se viaggiate per più di 20 secondi, a una velocità inferiore a circa i 100. Se invece scegliete il profilo sport, si abbassa automaticamente per cercare di migliorare le caratteristiche aerodinamiche. Per avere una Touareg più precisa, nonostante il peso e le dimensioni, bisognerebbe aggiungere optional che cambiano completamente le carte in tavola, o lo steering pack che comprende le ruote posteriori sterzanti in grado di conferire le maggiori agilità, oppure lo steering in pack plus, che offre anche il sistema di stabilizzazione attiva del rollio, con le barre stabilizzatrici attive che compensano il rollio. Ma purtroppo non è possibile averli sulla versione A-Hybrid, che comunque rimane molto sicura grazie anche alla presenza costante della trazione integrale 4Motion. Lo sterzo, certo non pretendo che sia sportivo, però potrebbe essere un po' più preciso. Inoltre, le ruote anteriori sono molto sensibili alle asperità e le variazioni del fondo stradale e a volte costringono a correggere un po'. Insomma, diciamo che è migliorata in tutto, ma qua delude un po'. Ma la vera ammiraglia offre il meglio di sé in autostrada, nei lunghi viaggi. Grande comfort, un motore che a 130 all'ora in ottava ronfa solo a 1900 giri. Fantastica! Meglio però tenere d'occhio il contachilometri, oppure affidarsi al cruise control, perché non ci si rende conto della velocità e il tutor è sempre dietro l'angolo. Potendo farlo, la velocità massima è autolimitata a 250 all'ora, mentre raggiunge i 100 all'ora da fermo in 6,3 secondi. Prestazioni elevate sì, ma tenuto sotto controllo da un impianto frenante ben dimensionato, ma in difficoltà. E finché la batteria è carica, tutto bene, ma quando si esaurisce il lavoro, rimane tutto affidato al V6 turbo benzina e a quel punto lo stesso motore che monta la versione normale a benzina deve anche portarsi in giro il peso in più. E allora parliamo di consumi. La casa dichiara un combinato tra i 2,7 e i 2,9 litri per 100 km e un consumo di energia elettrica tra i 24,2 e 24,7 kWh per 100 km. Nella giornata in cui abbiamo girato il video, tra autostrada, extraurbane e città ho percorso 258 km, con un consumo medio di benzina di circa 5 litri per 100 km e di energia elettrica di 46 kWh per 100 km. La Touareg è molto sicura. Già di serie offre il cruise control con regolazione automatica della distanza in grado di attivarsi fino a 210 km all'ora, il front assist, riconoscimento segnaletica stradale, rilevatore di corsia e rilevatore di stanchetta. Qui è stato aggiunto il safety pack che costa 1240 euro e che aggiunge sistemi di assistenza alla guida che ormai conosciamo piuttosto bene, dal side assist al traffic jam assist al travel assist per una guida autonoma di secondo livello, per consentire davvero dei viaggi più rilassati e sicuri. C'è anche l'intersection assist, vi aiuta ad uscire da passi carrai o ad attraversare in croci con scarsa visuale. Monitorando la zona antistante l'auto, vi avvisa con segnali ottici e acustici e se si avvicina un altro veicolo al di fuori del vostro campo visivo, attiva la frenata di emergenza. A proposito del front assist, mi è capitato questo episodio. Ero in tangenziale, uno diciamo sbadato, ha tagliato la strada all'auto che era davanti a me. Chi era la guida, giustamente, ha frenato e anch'io stavo per frenare. Il sistema ha deciso di tirare un'inchiodata bestiale assolutamente non necessaria, inadeguata, tant'è che è volata anche la mia borsa da lavoro. Insomma, diciamo che c'è ancora qualcosa da sistemare. Un consiglio, anzi, due. Non fatevi mancare i fari a matrice di LED per illuminare a giorno o la notte e viaggiare davvero sicuri e la night vision che riconosce persone e animali nell'oscurità tramite una telecamera a infrarossi. Poi tutti i dettagli li troverete nell'articolo. La tecnologia a bordo è tanta. Ho già accennato all'Innovation Cockpit. Comandi fisici spariti. Niente più tasti, manopoli e interruttori. È rimasto giusto quello per regolare il volume e poco più. Attraverso il mega display si gestisce qualsiasi funzione dell'auto. Rapido nella risposta, mostra subito i menu principali non appena si avvicina la mano. Ha talmente tante caratteristiche interessanti che si potrebbe realizzare un video dedicato solo a questo. Non essendoci un controller, evitate il più possibile i comandi touch. Non distraetevi. Sfruttate al meglio i comandi vocali e gestuali. È molto bello, molto preciso, altamente personalizzabile, ma non così intuitivo come secondo me dovrebbe essere. Temo che ogni tanto qualche cliente, mettendo da parte l'orgoglio, tornerà in concessionaria per farsi spiegare un po' di cose. Vi segnalo anche una mancanza, secondo me un po' grave, nel volante multifunzione. Non ci sono i tasti per rispondere a una telefonata in arrivo e per chiudere la conversazione. Vorrebbe dire distrarsi molto meno. Bisogna per forza ricorrere al display touch. Inoltre, visto il prezzo e la clientela a cui si rivolge, mi aspettavo che il LED-up display fosse di serie. Invece no, bisogna aggiungere altri 1.400 euro. L'attuaria hybrid plug-in è offerta in due allestimenti. O meglio, come dice Volkswagen, potete scegliere tra due pacchetti di design. In Atmosphere, o come questa, Elegance, scegliete quella che più si avvicina al vostro temperamento. Costano entrambi 78.000 euro e hanno in comune i cerchi in lega da 19 pollici, il tetto panoramico apribile elettricamente, il cruise control adattivo. Con una dotazione molto ricca, che comprende l'Innovation Cockpit, il clima automatico a quattro zone, il bagagliaio ad apertura elettrica, i sedili Top Comfort riscaldabile in pelle, gli ADAS che vi ho già elencato e tanto altro. Altrettanto lunga è la lista degli optional. Se invece volete un'ibrida plug-in più cattiva, c'è la R, la più sportiva dell'intera gamma. Spinta dallo stesso 3000 V6 Turbo, può però contare su una potenza di sistema di ben 340 kilowatt, 462 cavalli, e raggiungere i 100 all'ora da fermo in solo 5,1 secondi. Per il prezzo si parte da 96.000 euro. Questa terza generazione della Touareg è un grande SUV di lusso, che ora ha un aspetto nell'insieme più piacevole, è più tecnologica di prima, più sicura, meglio equipaggiata e più efficiente. Vanta ha anche un buon comportamento dinamico, ma preferisce privilegiare il comfort, che è il suo grande punto di forza. Se vi piacciono i SUV e il budget ve lo permette, anche se non hai il brand blasonato di altre, non sottovalutatela. Per quanto riguarda questa versione ibrida plug-in, il cliente tipo, oltre ad avere grandi possibilità economiche, è attento all'ambiente, vive un po' fuori città, perché già se vive e si muove solo in città, con le sue dimensioni la Touareg non è proprio l'ideale. Ha il suo wallbox per ricaricarla comodamente senza stress, percorre poche decine di chilometri al giorno per raggiungere il posto di lavoro, quindi viaggia quasi sempre in modalità elettrica. E poi, ovviamente, in molte regioni e comuni si avvale dell'esenzione parziale o totale del bollo auto, accede senza limitazioni alle ZTL, non ha problemi con i blocchi del traffico e spesso ha la possibilità di parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu. Se non si percorrono tanti chilometri e non si vuole rinunciare al piacere del V6 Turbo, il 3000, beh, allora si può scegliere la versione normale a benzina, che monta lo stesso propulsore con 340 CV e allo stesso identico prezzo di listino. Se invece macinate molti chilometri, c'è il 3000 V6 TDI con due stead di potenza a 231 o 286 CV, meglio il secondo dato il peso della Touareg. Tra le alternative alla Touareg ci sono la cugina Audi Q7 TFSI E, Mercedes GLE 350DE 4MATIC, che però è a gasolio, BMW X5 XDrive 45E, Lexus RX, che è un full hybrid, Volvo XC90 Recharge, Range Rover Sport P400E o la Porsche Cayenne E Hybrid. Potendo quale scegliereste? Ma soprattutto cosa ne pensate di questa Volkswagen Touareg hybrida plug-in? Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube, lasciate i vostri commenti che sono sempre importanti, condividete anche questo video sui social e continuate a seguirci su hdmotori.it